Buonasera a tutti, benvenuti all'ottavo episodio. Sono Miki Seppi e oggi c'è anche un amico mio, Luca. Ok, siamo pronti per scorazzare. Allora, oggi raggiungeremo... Ok, si riparte. Ok. Quanto ho dei pepestrelli. Niente qua. Strellacci. Andate via. Te che dici, Luca? E' bello questo galeone? Sì, sì. Mi manca quel rottame. Il rumore che faceva quando gli davamo fuoco. Mi scendo con la cremuccia. E' un po' di nemici. Due. Ma so com'è. E' un po' di nemici. E' un po' di nemici. No. Non tirare la moto dietro Oh, che 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 spara Che 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 spara, non sobra? No, va No, va Mori, bastardo Ricarichiamo sempre, prima del combattimento Mori, bastardo Come grafica niente male? No Tutto è un fatto, poligoni perfetti Mentre scatti Oh! Qui invece scattamo via Ammo scattamo via Ammo scattamo via No non è la stessa cosa non c'era rimasto una cosa vedete da giù tanto sentirete Icon urlare che adesso chissà saranno le due me perché? oh dio perché? ti risentiamo alle 2.35 quantos? 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 no 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 adesso sono morto Oh, mamma che altro quelle sono munizioni non c'è la ricontinua rifare tutto la capo ho fatto una... ho fatto una bella fine tre canate ho fatto una salata con le parole oh, spari? so, non voleva sperare non prendo un geno non prendo un geno and... non si non prendo un genio non prendo un genio non prendo un genio Grazie. E' un bel fucile, adesso lo proviamo subito. E' un bel fucile, adesso lo proviamo subito. E' un bel fucile, adesso lo proviamo subito. Che miseria ci senti? E' un bel fucile, adesso lo proviamo subito. E' un bel fucile, adesso lo proviamo. Ok. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a questo che si mette vengo No, 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 no.